Simona e Chiara stanno per acquistare sul web degli occhiali da sole griffati, ad un prezzo davvero vantaggioso. Forse non sanno che gli occhiali contraffatti, oltre a danneggiare l'economia, le imprese e i lavoratori, nuocciano in modo grave alla vista. Il falso danneggia tutti. Chi compra merce contraffatta non rispetta la legge e incoraggia i traffici illeciti della criminalità. Per questo è prevista una sanzione fino a 7.000 euro. Non permettere che un falso risparmio diventi un danno reale per te e per gli altri.